E' zio Mauro, una volta si diceva giornalista di razza, oggi la parola è impronunciabile, pericolosa e non mi riferisco solo a razza, ma anche a giornalista, una razza in via di estinzione, possiamo dire così. Allora, giornalista, cronista, cronista parlamentare, inviato, direttore della stampa dal 92 al 96, poi per 20 anni direttore di Repubblica e lei ha detto meno di un partito più di un giornale, che cosa voleva dire? Ma Repubblica è stata accusata tante volte di essere un partito, di fare politica in modo attivo e l'ho sempre considerata più che una cosa sbagliata un atto di pigrizia intellettuale, perché era una banalità. Naturalmente chi lo diceva sentiva un rapporto particolare tra Repubblica e i suoi lettori. Repubblica influenzava un pubblico costituito, potremmo dire, ma non capiva che i lettori influenzano molto Repubblica, i lettori pretendono moltissimo, proprio perché sono un pubblico costituito, che si sente padrone del giornale in qualche misura. Non c'è mai interessato, personalmente proprio non mi interessa perdere del tempo a pensare chi farà il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, mi interessa molto di più se sono capace di mettere in campo un'idea che cammini 5 centimetri e influenzi il dibattito pubblico, quello mi interessa molto. Ecco perché dico molto meno di un partito, ma qualcosa in più di un giornale, proprio per questo carattere anche di agenzia culturale che Repubblica ha sempre avuto, come anche altri giornali peraltro. E la Repubblica è rimasto, perché non ha seguito il suo vecchio editore? Io come facevo a lasciare un giornale in cui ho lavorato vent'anni, tre anni prima Mosca, ho continuato a lavorare cinque anni dopo la direzione, ma soprattutto 400 persone che hanno lavorato con me per vent'anni accompagnandomi in tutti i percorsi che decidevo di intraprendere. Io credo di avere qualche obbligo nei confronti di queste persone. Lei ha cominciato alla Gazzetta del Popolo, scuola piemontese, rigore, puntiglio, si diceva sempre una volta suola delle scarpe, cioè una cura maniacale e rigorosa nella ricerca e nello studio anche delle notizie. E l'ispirazione di alcuni maestri laici, uno per tutti Norberto Bobbio, ma anche Zagrebelsky per esempio. Che mondo era rispetto ad oggi? È un mondo che ha influenzato molto, in piccolo riproduce la storia del partito d'azione che non ha contato nulla dal punto di vista politico, organizzativo, ma culturalmente ha contato parecchio e si vedono i segni ed è una delle bestie nere delle destre perché semplicemente cercava di mettere insieme il metodo liberale con l'evoluzione della sinistra italiana, un'operazione difficilissima e incompiuta, però si capisce che questo facesse saltare la mosca al naso alle destre. Bobbio è un erede di quella scuola, è un maestro di quella scuola, Zagrebelsky lo è idealmente perché è di una generazione successiva. A me ogni tanto dicono gli avversari, se così si può dire giornalisticamente, azionista e io dico magari, troppo facile dirsi azionisti oggi. Bobbio maestro laico ma anche forse il più vicino e il più capace di comprendere le ragioni dei cattolici per quanto lo ricordo e tuttavia la gazzetta del popolo era ambito democristiano, Bodrato, Dona Cattè, ecco. Lei che cattolicesimo ha conosciuto in quegli anni? No, il vero cattolicesimo che ho conosciuto è quello di mia madre, quello dell'educazione mia che è l'educazione dell'intera generazione mia, catechismo, messa, tutte le domeniche, la messa dei ragazzi, mi pare che fosse alle dieci o alle dieci e mezza, ma credo le dieci cedro nero, i ragazzi da una parte, le ragazze dall'altra parte, guardavamo le ragazze dall'altra parte, lo guardavano noi e poi ci si ritrovava tutti fuori sul sagrato della chiesa, l'oratorio, avevo uno zio anticlericale che mi diceva vai troppo all'oratorio, però si giocava a pallone, si giocava a pallone nella piazzetta che c'era davanti alla chiesa e questo era irresistibile insomma e quindi la vera educazione religiosa è quella di mia madre, normale famiglia piemontese dove la religione fa parte della tradizione, fa parte di un modo di vivere e poi la religione anche come assorbimento culturale, tutti i riferimenti di quel mondo, della Bibbia, del Vangelo che ti sono dentro e te ne accorgi continuamente perché continuamente ti vengono fuori, ti ritornano, e quindi questa dimensione culturale dell'aspetto religioso che poi è diventata quella prevalente col passare degli anni e poi gli anni del collegio dove la lontananza, ero ragazzino, giovane e la lontananza della famiglia si compensava magari andando in cappella a pregare e poi col passare degli anni invece si fanno i conti con la chiesa, si fanno i conti con l'organizzazione, si fanno i conti con certe prese di posizione che non condividi e rimane questo legame con una tradizione che parte del nostro modo di vivere, della nostra cultura insomma e quindi ci ragioni. Crescere in provincia sono radici che non si scordano mai, eh? Ma crescere in provincia è bellissimo a patto che tu poi te ne vada secondo me. Come diceva Pavese, è importante avere un paese dove tornare. È importante avere un posto bisogna averlo, no? Diceva, sì. È importante avere un paese, io torno sempre a Dronero, quando cammino per la strada una volta mia figlia mi ha detto ma saluti tutti, saluto tutti, molti perché li conosco, molti perché ho paura di non riconoscerli e quindi tanto li saluto. Molti che conoscono lei. No, ma comunque certamente conosco molte persone, è il mio posto, lo considero il mio posto, anche se ormai ci sto poco, ci sto pochissimo, però quando devo pensare a dei luoghi particolari penso a Dronero, insomma. Alla provincia granda di Cuneo in bocco della Val Maira. Sì. Montagne bellissime tra l'altro. Montagne molto belle, una valle molto bella, selvaggia, l'unica valle alpina che non ha un impianto sciistico, che non ha un cartellone pubblicitario, le teste dure, no? Come si diceva una volta, qual è il miglior pregio di quella parte dell'Italia? Avere le teste dure. Il peggior difetto, avere le teste dure. Lei lo considera un pregio del suo mestiere? Sì. Sì, io credo che sia utile avere la testa dura. Mauro, lei ha raccontato gli anni di piombo, ha rischiato parecchio. Chi? Io? Non mi sono reso conto. Non mi sono reso conto assolutamente. Mi sono poi state dette delle cose successivamente, ma a così tanta distanza di tempo che non c'è stato più ragione per avere paura. Ma mentre lavoravamo, mentre si andava tutti i giorni, si accendeva tutte le mattine la radio, appena alzati per sapere se avevano sparato qualcuno. E poi si correva, si andava nei posti dove erano avvenuti gli agguati. E in quei giorni non ho mai pensato di avere paura, perché non ho mai pensato di poter essere nel mirino, insomma. E invece la cosa importante di quella stagione è che fare il cronista mi ha fatto capire. Perché tu vedevi le persone per terra, arrivavi magari certe volte se era vicino alla gazzetta. Noi avevamo delle radio che ascoltavano la radio della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani e della stampa, le autoradio che parlavano con la centrale. E quindi quando c'era un delitto queste radio crepitavano tutte insieme, urlavano. Allora uno partiva subito con la macchina e col fotografo e dal giornale ti dirigevano nel posto dove era stato l'agguato. È capitato quando questi attentati avvenivano vicino alla gazzetta, di arrivare prima della polizia, di arrivare prima dell'ambulanza, vedere che tagliavano i pantaloni alle persone per fermare il sangue dalle ferite. E poi tornare al giornale e leggere i documenti fanaticanti che dicevano il servo delle multinazionali e tu magari gli vedevi quelle mutande da mercato che aveva tuo nonno e capivi che il servo delle multinazionali non c'entrava niente. Avevano sparato a una maschera ideologica e avevano però azzoppato una persona. Oppure il caso di Casalegno quando arrivo di Corsa perché ero al circolo della stampa a una riunione sindacale che è l'isolato prima di casa di Casalegno, arrivo di Corsa e il primo che trovo è Ottavio Comanda e la gazzetta che mi dice che gli hanno sparato in faccia. E io dico ma accidenti, ma loro vogliono uccidere. Era stato il salto di qualità. Questo fortunatamente mi ha fatto capire. Tutto quello che ho imparato l'ho imparato grazie al mio mestiere. Il mio mestiere mi ha insegnato. E quindi andare nei posti, vedere le cose, ha consentito di smontare la macchina ideologica. Io sapevo che c'era il potere della democrazia cristiana e col voto cercavo di cambiarlo. Ma quella cosa era una cosa disumana, mostruosa. Lei è stato inviato in Russia nell'anni della perestroica, ha visto la fine del comunismo e a cent'anni dall'origine del comunismo in Italia ne ripercorre l'opera e ripercorre soprattutto la nascita a Livorno in quell'anno e in quel momento in cui il partito socialista si scinde in due. La dannazione è il libro che è appena uscito, è anche un docufilm che abbiamo potuto vedere, cronache di una scissione. Lei continua la serie di cronache in qualche modo di cui si è occupato, cronache di una rivoluzione ed eravamo nel 1917 in Russia, cronache di un sequestro e del sequestro Moro, cronache dal muro di Berlino. Che differenza c'è tra la cronaca e la storia? Ma intanto io uso il termine cronache perché non sono uno storico, non sarei capace a fare un libro con la dimensione dello storico, non è il mio mestiere, e ripercorro le tappe di queste vicende, ho raccontato la rivoluzione russa, quella di febbraio, quella di ottobre, ho raccontato la caduta del muro, ho raccontato il delitto Moro e ho raccontato l'origine del comunismo italiano e la tragedia del socialismo che si divide nel 1921. Dannazione e la tentazione continua di dividersi quando ci sono dei contrasti nella sinistra italiana. Però il contrasto era su quel punto di cui parlavamo prima anche, no? Certo. Cioè tra Turati e l'ala non solo dei massimalisti ma anche di quelli che hanno fatto il partito comunista che accettavano la rivoluzione in armi. È il contrasto che attraversa tutta la storia della sinistra se vogliamo, tra il gradualismo, Turati ha un'immagine bellissima, il socialismo si costruisce con una cooperativa oggi, una camera del lavoro domani, la conquista di un consiglio comunale dopo domani e invece lo scenario della rivoluzione che cala di colpo, come la conquista di Palazzo d'Inverno, con la violenza, con la dittatura del proletariato, sono due anime, sono due strade, sono due tendenze che naturalmente aggiornate coi tempi sono arrivate fino ai giorni nostri senza conciliarsi. Sulla cronaca, è vero che cronaca e storie sono molto diverse, lei dice di non essere uno storico, però i metodi di indagine sono simili. Beh, ci vuole fedeltà storica naturalmente, ma la cronaca mi consente di provare a fare quello che ho letto a casa di Nabokov quando sono andato a fare il lavoro sulla rivoluzione russa. Lui dice in un appunto che ho trovato, sono i particolari e i particolari dei particolari che trasformano una storia inerte in qualcosa degno di essere letto. È una sintesi straordinaria. La seconda cosa in cui io credo profondamente è che tutti pensano che la cronaca racconti, certamente la cronaca racconta, ma in realtà la cronaca rivela. Se tu segui la cronaca e ci entri dentro e vai negli interstizi della cronaca, capisci delle cose. La cronaca svela, rivela, ti fa capire, ti porta dentro. Io ho provato molto semplicemente a fare il cronista racconta di storia di cent'anni fa, di quarant'anni fa, secondo la vicenda. E quella storia del 1921 ci aiuta a leggere non soltanto la storia degli anni successivi, ma anche quella attuale a mio parere, perché la sinistra dannata ha ceduto alla finanza, alla tecnocrazia, potrebbero dire alcuni, ma ha ceduto anche alle pulsioni antisistema, potrebbero dire altri, sempre per arrivare o stare al potere. Ma no, bisogna anche pensare che uno dei vizi della sinistra, che l'ha dannata in molti casi, è quella di essere una continua fabbrica di modelli sociali. È una modellistica infinita quella della sinistra e poi è rimasta imprigionata da questa definizione di società continua e che si incarnavano poi in un credo ideologico, per cui finiva, questi scontri ideali finivano con questa situazione che il tuo compagno diventava il peggior nemico. Più dell'avversario, si sarebbe detto allora di classe, più della destra. Era il tuo compagno che era il tuo nemico. Il riformista per i rivoluzionari, i rivoluzionari per i riformisti, con dei contrasti enormi e con una cecità indotta, perché la cosa che mi ha molto copito, studiando il resoconto stenografico del congresso di Livorno, dove ci sono tutte le battute, le interruzioni, gli interventi, non ci si accorge, con mille delegati, tutti i leader da Turati, Gramsci, a Matteotti, a Terracini, a Bombacci, a Bordiga, non ci si accorge che il fascismo sta bussando alla porta del teatro. Cosa stava succedendo fuori? Perché erano ipnotizzati dalle loro tensioni interne. Senta Mauro, perché nella giusta ricordo, spesso anche nell'esaltazione nostalgica dell'anniversario del 1921, della nascita del PC, non si ricorda la sua soggezione al totalitarismo sovietico? Non abbastanza. Io ho dedicato un intero capitolo a questa vicenda, perché si pensa che sia una vicenda italiana, ma non si capisce niente se non si parte dal terremoto del 1917, che all'inizio con la rivoluzione di febbraio è appoggiata da tutti, anche dai riformisti. Il primo intervento della Camera di esaltazione della rivoluzione è di Turati, il capo dei riformisti. Quando poi entrano in campo i bolshevichi con il loro colpo di mano e quindi si ideologizza una rivoluzione di popolo, una parte dei socialisti italiani sta prendendo le distanze. Ma intanto è nata la frazione comunista che o riesce a prendere il controllo del partito come vogliono i sovietici, oppure se ne va fondando un altro partito. Succederà la seconda cosa. Bisognerebbe alle celebrazioni del Partito Comunista aggiungere un elenco con le firme di Solgenizi, Sakaro, Soloviev, Grossman, Kvetaeva, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, bisognerebbe, io mi sono fermato al 21, ma bisognerebbe allora ricordare anche delle diversità positive, la lotta contro il fascismo e la resistenza che insieme con altre forze il PC ha fatto e ritornando a quello che dicevamo prima, la difesa della democrazia e dello Stato durante il terrorismo, la sfida del terrorismo. Ma prima ancora le prese di distanza, non tante, ma qualcuna sì dopo i fatti d'Ungheria di Cepo Selvacchino? Troppo timide, troppo timide persino nel 68, quando c'è la condanna… Compagni che sbagliano? Beh, è troppo tardi dire le cose giuste vent'anni dopo. Soprattutto cambiare il nome e cioè prendere le distanze dal comunismo sovietico un minuto dopo la caduta del muro di Berlino comporta che i calcinacci del muro rimangono sulla giacca dei comunisti italiani, anche di quelli che hanno avuto il coraggio di fare quella scelta tardiva, perché in politica i ritardi si pagano. Lei vede, Mauro, la stessa perdita di coscienza anche nel mondo delle radici culturali cattoliche, a suo parere, oppure no? In parte sì. Stiamo mettendo a paragone due anime popolari, no? In parte sì. Politicamente c'è un esaurimento del ruolo dei cattolici democratici che hanno contato parecchio nella storia del dopoguerra. Al di là di qualche piccola cozzaglia d'occasione. Sì, però c'è una diminuzione del ruolo, il ruolo è stato molto più rilevante. E la testimonianza della democrazia cristiana, il senso dello Stato che aveva, con delle prassi personali poi anche condannabili. Però tutta questa roba non si sa dove è finita. È difficile dire che sia finita a destra, perché i comportamenti della destra sono diversi. Pensiamo solo all'atteggiamento nei confronti dei migranti. Non si può con il rosario in mano dire le cose che sono state dette, perseguire le politiche che sono state perseguite in confronto ai migranti. Però certo, anche nel mondo cattolico si fa strada un dio comodo, un dio che sembra un presidente della RAI, nel senso fatto su misura, immagine e somiglianza che deve garantire tutto, mentre penso che il rapporto con il trascendente non debba essere così. Le citavo a sua madre prima o presente, appunto, anziani di famiglia per cui Dio non era qualcuno da tirar fuori al bisogno e da incasellare in altre situazioni, no? Permeava, magari in maniera anche opprimente in certi casi, ma tutti gli aspetti della vita. Sì, diciamo che la generazione dei nostri nonni, dei nostri padri, delle nostre madri bisognerebbe dire nel mio caso, perché mio padre non era assolutamente credente, aveva più una concezione di un dio biblico. Un dio, quando c'era una situazione difficile si guardava a lui, perché era come se dovesse dominare le situazioni difficili e riportassero a lui più un dio della Bibbia che un dio del Vangelo, no? Più un dio di fronte al quale chinare la testa che un dio della misericordia. Invece il dio della misericordia colpisce di più? Invece il dio della misericordia è il dio di questo Papa, si potrebbe dire, no? Il dio di questo Papa, quando penso agli ultimi papi penso a Voitiva, l'anima, la spiritualità fortissima, Ratzinger la mente, no? L'intellettualità e Bergoglio il cuore. Senta Mauro, lei ha scritto un libro intervista con Zieg Wimbauman, non sto saltando, sto seguendo proprio lo stesso filologico, Babel, prendo solo a prestito il titolo, Babel è naturalmente l'Occidente, la sua civiltà, tiene insieme le cose che abbiamo detto prima a proposito di perdita di coscienza e di identità. Sì, è un tema che mi interessa molto. L'Occidente non è cosciente di sé, non è memore della sua storia, della sua funzione, del suo carattere, della sua identità, quindi dei suoi doveri, dei suoi punti di forza. Ha ritenuto che con la fine del sistema sovietico fosse finita la ragion d'essere dell'Est e quindi anche l'Ovest fosse tornato un punto cardinale, fosse tornato una pura espressione geografica. Mentre io invece credo che l'Occidente abbia una ragion d'essere anche oggi e si può condensare in questa formula che uso spesso. L'Occidente dovrebbe ricordarsi di essere la terra della democrazia dei diritti e della democrazia delle istituzioni. Noi siamo quella cosa lì o non siamo niente. Noi siamo la democrazia dei diritti e la democrazia delle istituzioni. Portiamo questo nel rapporto con gli Stati Uniti, lo portiamo, portiamo anche la civiltà del diritto che deriva dai Romani, che ha permeato tutta la nostra lunghissima storia e noi dobbiamo essere questa cosa. Non siamo stati capaci nel momento in cui è caduta l'Unione Sovietica di lavorare sulla Russia e sui paesi dell'ex impero dell'Est per convertirli alle ragioni della democrazia compiuta e dell'Occidente. Quella che c'è in quei paesi, in particolare in Russia, è una superficie democratica che tiene dentro però un'anima dispotica. È anche vero che l'Occidente quando ha cercato di esportare la democrazia l'ha fatto con le armi, i risultati sono stati scarsi. Infatti io parlavo di convertire, non di piegare. Ecco sì, conversione intesa in senso reale, cattolico. Non quella dei conquistatori. Non quella dei conquistatori. E poi due cose, la cultura del diritto o la cultura dei diritti? Perché oggi c'è un'estensione molto elastica del termine diritto che porta quindi a un'egemonia spesso delle minoranze. Sì, entrambe le cose. La cultura del diritto, pensiamo a tutta la discussione che è stata fatta nel caso della guerra dopo l'11 settembre, quindi il tema della legalità delle azioni che la politica deve compiere, la forza misurata secondo le regole del diritto. E poi naturalmente i diritti. I diritti sono una conquista fondamentale della parte del mondo dove fortunatamente viviamo e bisognerebbe avere presente tutti che i diritti non riguardano soltanto le categorie piccole magari che li conquistano in una determinata contingenza storica. Perché i diritti valgono per tutti, i diritti camminano e quindi danno la cifra della qualità della democrazia in quel momento. La danno per tutti però, anche per chi non stacca il dividendo specifico della riscossione di quel diritto. Poi non tutti i desideri sono diritti, no? No, naturalmente no. Ci mancherebbe. Soprattutto in una democrazia. Senta, ancora a proposito del Partito Comunista, le mancano, non il Partito Comunista immagino, ma le mancano i partiti? Mi mancano le culture politiche. I partiti sono costruzioni umane e quindi nascono, crescono, deperiscono, muoiono. Non mi scandalizza. Le culture politiche sono una cosa diversa. sono qualcosa che è intrecciato con la vita della nazione, fanno parte della vita della nazione e a queste culture politiche che si appartiene per dei periodi magari o per tutta la vita. Ci si riconosce. Sono le storie, l'insieme di tradizione. È quello che fa muovere le bandiere. Se guardiamo le bandiere oggi, insieme con la rappresentanza di interessi legittimi, naturalmente. Se guardiamo le bandiere della politica oggi, sembrano quelle della luna, senza vento. Non si muovono. Non sono più capaci i partiti di interpretare la realtà? Ma chi è capace oggi a farlo? Per esempio, i giornali sono capaci di interpretare la realtà? Io non sono così negativo nei confronti dei partiti e figuriamoci dei giornali. C'è uno scollamento però totale, no? Sì, è molto difficile interpretare la realtà perché è come se fosse esplosa in qualche misura ed è difficile tenerla insieme. Mancano anche le categorie, le ideologie te la incasellavano e la facevano scorrere su dei binari precostituiti. Tutto questo è mancato. I partiti erano delle delle grandi agenzie che mettevano insieme la difesa di interessi, ideali, valori, tradizione, storia. Avevi dei punti di riferimento che erano anche di tipo morale in qualche misura e venivi a conoscenza anche di quello di altri. C'era un confronto tra posizioni diverse. Tutto questo è saltato. Vivere in una società in cui i partiti sono nati mercoledì scorso e quindi sono estemporanei, vivono di prassi e non di una tradizione, di una cultura. È complicato. Quando il Presidente Consiglio, faccio un esempio minimo, Conte si rivolge ai riformisti e agli europeisti. Ma chi è che è portatore di questa cultura? Ci possono essere degli individui ma manca una capacità di organizzare questi sentimenti, questo modo di pensare, questa prospettiva. Non c'è. Non tutto quello che c'è stato nel Novecento da buttare, ma saremmo dei pazzi, degli iconoclasti. Quando è morto il Partito Comunista, Bobbio, che l'aveva incalzato e non solo negli anni in cui era potente, ma l'aveva incalzato nel 78 quando Berlinguer teorizza la terza via, Bobbio dice che non esiste la terza via a sinistra. O si è comunisti o si è democratici. In mezzo non c'è niente. Dovete decidere a fare il salto, a rompere col comunismo e a diventare semplicemente democratici. Quando muore il PC, scrive sulla stampa, ma chi si farà carico di quel fascio di interessi e di valori che molti italiani riconoscevano dentro il PC? Quella domanda è ancora senza risposta. Ma chi si farà carico di domande così e di un'autorevolezza tale da poter far muovere il cervello anche dei lettori? Ma è l'unica ragione per fare politica. Per fare anche giornalismo. Ed è l'unica ragione per fare giornalista. Provare a capire e dare gli strumenti per comprendere ai lettori, sapendo che comunque c'è sempre qualcosa da capire, qualcosa da imparare, qualcosa da ricordare, che vale la pena ricordare. I giornali hanno questa funzione e hanno anche una funzione di scouting, di indagine per il futuro. Si pensa che i giornali raccontino ieri. In realtà i giornali anticipano il domani con la loro indagine. Questa è la loro funzione. Poi si criticano tanto i giornali, ma bisogna pensare che non c'è mai stato un consumo di informazione come negli anni che noi stiamo vivendo. Non si è mai consumata così tanta informazione. I cittadini si alzano, magari non comprano il giornale, magari non l'hanno comprato tutta la settimana, ma vanno sul sito di un giornale per ricevere le informazioni. Quindi la mia funzione, quella di lavorare nell'informazione, ha un valore fortissimo anche oggi. La mia responsabilità cresce di conseguenza. Soltanto con l'informazione il cittadino è consapevole ed è consapevole perché è informato. Se la democrazia potesse sognare, sognerebbe dei cittadini lettori di giornali. E di libri. E di libri. Grazie zio Mauro. Le chiedo una canzone. Chiudiamo con una musica che le è cara, su cui fa scorrere i titoli di coda e i nostri saluti. Across the universe. Nothing's gonna change my world. Negli anni complicati e difficili io e un mio collega che purtroppo non c'è più, che è Peppe Davanzo, ci dicevamo questo verso dei Beatles. Nothing's gonna change my world. Teste dure.